Salve ragazzi e bentornati alla puntata numero 2 dell'evento sull'ascesa delle sentinelle. Meno male che sono riuscito a recuperare i percorsi giusti ragazzi perché purtroppo essendo io un imbecille sono riuscito a sbloccare la regione sbagliata e quindi sono andato fuori dal percorso canonico che per quelli che non lo sapessero il percorso canonico è quello che spiega Akshan nei suoi video sull'epilogo dell'ascesa delle sentinelle. L'ultimo che è uscito parlava come seconda tappa dopo Demacia appunto il regno del Freljord e non quello di Noxus. Io imbecille come sono ho fatto quello di Noxus e poi il Freljord. E siccome mi ero perso la notizia sul sito di League of Legends che spiegava che se scegli un percorso invece che un altro allora vuol dire che cambi il corso della storia che sta intraprendendo. Diciamo dico tra virgolette perché in realtà non è che cambi granché, anzi a dirla tutta non cambia proprio un ca. L'unica cosa che cambia è un'interazione che viene detta anziché dalla sentinella precedente a quella nuova reclutata. Per esempio io che ho sbloccato Noxus e quindi ho sbloccato Riven sentinella, dopo sono andato a Freljord e la frase che avrebbe dovuto dire Vayne di Norma la dice appunto Riven perché è una nuova e quindi non è di grosso impatto nel senso non cambia granché. L'unica cosa che cambia è il fatto che ci sia un personaggio che canonicamente non è ancora presente all'interno della scena. E comunque io essendo munito del compito di trattare la Lord League of Legends nei suoi minimi dettagli il più preciso possibile ovviamente devo essere pignolo su questo. Di conseguenza quel piccolo errore, per quanto piccolo fosse, non mi andava giù granché. E quindi ho recuperato diciamo un account alternativo in cui sono riuscito a sbloccare l'ordine corretto esattamente Freljord e poi Noxus quindi andiamo dritti dritti sparati tranquillamente, non ci preoccupiamo più di questi errori. Ora entriamo nel Freljord ragazzi ma ricordatevi sempre di lasciare il vostro like al video, commentare, iscrivervi al canale, attivare le notifiche e seguirmi su tutti i social per rimanere costantemente aggiornati. E niente, andiamo! Entriamo nel Freljord! Giungi in un'oscurità fredda e disorientante. Oh guarda, è il Freljord. Non senti il terreno sotto i piedi, è come se stessi galleggiando dentro al ghiaccio. Che succede? Dove siamo? In Cambogia Vayne, dove cazzo vuoi che siamo? Non mi sento più il naso, che sensazione assurda è mai questa? Oh Gwen, tu piccola ingenua Gwen, si chiama freddo. Si chiama freddo, siamo finiti in un cumulo di neve. Senna mi capisce. Quindi la base delle sentinelle è, o meglio, era qui. Niente più base, è già andata, morta, sepolta, distrutta. Dubito che troveremo alleati, questo posto sembra essere sepolto dalla neve da decenni. Eeeh, decenni no, direi quasi quasi millenni. Neve? Cosa sarebbe esattamente? Corina, non conosce la neve, è piccola lei. Sei una tipa strana a forbicina. Eeeh, mi mancava questo nome. Te lo spiego dopo. Ci sei recluta? Cerca di farti strada verso l'alto scavando. Volentieri, appena capisco dov'è l'alto. Volentieri, ma non sento più le mani, sono congelate. D'accordo, un momento, chi ha parlato? Sei tu Senna? Certo che questo gioco vuole far apparire la recluta come un imbecille cronico. Direi a sto punto che mettiamo la prima. Forza, ce la puoi fare, sei in gamba. Naturalmente, sono il più in gamba di tutti qui. Dopo qualche minuto passato a scavare disperatamente, tu e le sentinelle emergete tra le foreste del Freljord in rovina. Ah, siamo arrivati tardi, come al solito. Ok, direi che anche il Freljord è già in rovina. Eh, per essere uniti di una mappa che ci trasporta da base a base, comunque siamo piuttosto lenti rispetto a Biego. La prima cosa da fare è capire cosa cerca Biego in questo posto. Separiamoci e indaghiamo. Certo, isoliamoci in mezzo al gelo e la rovina, la nebbia oscura e Biego, che è la prima cosa che non vogliamo fare è proprio quella. Fai un passo e finisci in un'altra buca sotto la neve. Riot, dai, basta farci così cretini, forza. Maledizione, siamo nella... Merda? Neve fino al collo, più o meno. Che splendore, un paradiso bianco e candido, come un gelido telo di cotone. Meno male che Gwen c'è, raga. Certo, è bello vedervi giocare nella neve, ma dobbiamo pensare a un modo per riuscire a muoverci. Non ha tutti i torti, come sempre Senna d'altronde, non si smentisce mai. Ora come ora, una pala sarebbe di grande aiuto. Non lo so, magari potresti usare le tue armi per fare fuoco e sciogliere la neve che c'è intorno a te, così puoi muoverti. Ci hai mai pensato? Improvvisamente un urlo roboante riecheggia fra i pini, facendoti venire la pelle d'oca. Oh madonna, a noi non viene altro che la pelle d'oca in questo cazzo di gioco. Torna qui e assaggia la mia ascia, dannato demone! Oh guarda, Olaf, puntuale e incazzato, come sempre. Ah, che individuo particolare e rumoroso, ma indossa degli animali morti? È ingenua, ma ci ha azzeccato in pieno. Deve essere un esperto di conciatura e cucitura delle pelli. Sì, direi proprio quello Gwen. Oh, devo assolutamente chiedergli qualche consiglio. Eh, mi sembra proprio un'ottima idea. Qualcuno fermi quella povera ragazzina. Non credo che sia una buona idea avvicinarsi a un aspetto pericoloso. Gwen, posso dirti per esperienza che è meglio stare alla larga da chi agita un'ascia urlando? Sì, a meno che tu non desideri morire, io direi appunto la seconda. Certo, andiamo a parlare con il berserker impazzito. Che potrà mai succedere? Niente, ti fa solo il solletico. Direi a questo punto che mettiamo la 2 perché è più divertente. Un momento, riconosco quell'ascia. What? Ci ha combattuto insieme Lucian, l'ha incontrato. È Olaf, è un tipo a posto. Beh, se per te quello è a posto, se non lo fa irrabbiare. Ah, ecco. Il berserker folle tenta di fare a pezzi uno spettro con la sua ascia. Ti decidi a morire? Uno che odia così tanto gli spettri non può essere cattivo. E questi assolutismi come ti escono, Vein? Non solo. Guardate cosa sta facendo alla neve. Hmm, forse per via delle asce che, come sapete già ragazzi, e se non lo sapete male, sono temprate nel vero ghiaccio. Osservi con stupore Olaf farsi strada nella coltre bianca a colpi di ascia, lasciando dietro di sé un sentiero sgombro e comodo. Cazzo è uno spalaneve, Olaf? È la nostra occasione. Direi di seguire quel pazzo e lasciare che sia lui a farci uscire da qui. Ah, vuole gostarlo. Bella idea. Magnifico! Sono sicura che diventeremo subito amici. Ehi, mi aspetti, Messer Burbero della pelliccia? Povera Gwen, non sa cosa sta andando incontro. Sarcasticamente. Oh sì, finirà sicuramente bene. Sinceramente. Ok, ammetto che potrebbe funzionare. Hmm, sapete che mi sa che a sto giro metto la risposta numero due? Sì, dai, mettiamola due. Lieto di avere la tua approvazione. Non stavo parlando con te, Lucian. Ora seguiamo quel berserker. L'ha appena detto Senna. Fine dell'epilogo, ragazzi. Ora passiamo al capito numero uno. Una battaglia interrotta. Sta fermo e accetta la tua punizione, creatura dell'ombra. Certo, se ti aspetti che lui stia fermo, allora buona fortuna. Fuggi allora e portami dal tuo potente signore, araldo delle tenebre. Olaf tira dritto sia nella lore che nel gioco. Ironico. Olaf vuole un degno avversario! Ciao Fiora, stavi cercando forse un degno avversario? Perché qua c'è Olaf che cerca te. Ehm, è ser burbero dalla pelliccia? Ehm, dove si sarà cacciato? Ci ha tirati fuori dalla neve. Forse è meglio dimenticarsi di lui adesso. Guarda, a dirla tutta non è del tutto sbagliata questa ipotesi. Sì, occupiamoci della nostra missione. Trovare Viego e fermare questa ammietitura. Un sibilo e un tonfo interrompono il discorso di Senna. Il corpo del barbaro precipita dalla cima di una collina poco distante, schiantandosi vicino a voi. Oh, ecco Olaf che ingaggia da solo contro cinque persone. Magnifico. L'uomo si rimette in piedi, scuote la testa e grida contro un nemico invisibile oltre il pendio. Aha! Non sai fare di meglio? Ti credevo più forte! Olaf c'ha lo stesso atteggiamento che hanno i giocatori di Edo Silver Gold. Avanti, signora del buio! Scatena la tua forza! In cima alla collina vedi apparire una giovane Yordle dall'aspetto melanconico vestita di nero. Oh, guarda, è Vex. Ah, te l'ho già detto. Non sono la signora di un bel niente. Sono Vex e basta. Capito? Vex, hai appena chiesto a Olaf se capisce? Dall'ombra della Yordle emerge un getto di nebbe oscura che scaraventa il barbaro contro un crinale di roccia. Minchia. Bella forte la scricciola. Ahahahah, sì! Che masochista a quest'uomo. Che sta succedendo? Quel colosso le sta prendendo ed è contento? Vayne in qualche inspiegabile maniera è sempre scioccata, eh? Finalmente è un degno avversario! La nostra battaglia sarà leggendaria! Si alode all'orso dalle mille ferite! Quindi lui prima cita un meme di Kung Fu Panda e poi fa la lode a Volibear. Questo ragazzo mi piace. Il barbaro si scaglia allegramente contro Vex. La Yordle sospira e scrolla le spalle. Poi lascia partire un dardo di pura nebbia oscura che fa barcollare per un attimo il Berserker. Mì, ma sta Yordle è veramente forte. Con un altro lungo sospiro Vex inizia a preparare un incantesimo per dargli il colpo di grazia. Cioè sul punto di ucciderlo? Addirittura? Sì, sì, avanti fallo a masso di fuliggine! Oh madonna, qui Olaf sta pregando Vex di ucciderlo perché vuole morire combattendo. Non se lo vuole proprio togliere quel chiodo dalla testa, vedo, eh? Oh no, Messer Burbero della pelliccia ha in grossi guai! I guai sono quelli che cerca, quindi non mi stupirei nemmeno. Dobbiamo aiutarlo, qualsiasi nemico di quei mostri di nebbia è mio amico. Sono d'accordo, tu che ne dici, Reclota? Quel tipo è fuori di testa, non immischiamoci in questa follia. Io faccio sempre il tifo per quelli più piccoli, aiutiamo la Yordle. Qui stiamo esagerando un pochino, direi. Sì, salviamolo, però non vi sembra piuttosto contento di come stiano andando le cose? Questa mi sembra la frase più intelligente da mettere, dai mettiamo la risposta numero 3. È solo la frenesia della battaglia che parla. Mmm, evidentemente non conosci abbastanza Olaf, tesoro mio. Quando la sua era di Berserker sarà svanita, ci ringrazierà per averlo aiutato, fidati. Eh, mi fido, mi fido. Sentinelle, fuoco! Oh, le sentinelle aprono il fuoco contro Vex. E va bene, tanto non mi andava di combattere. Vex me le immagino un po' come il braccio destro del cattivo principale, che è tanto abile in tutto. Potrebbe batterti con uno schiocco di dita, però non c'ha voglia di combattere, non si esibisce, sta tranquilla, molto pacata. Andiamo, ombra. Questi qua mi hanno stufato. Questa ombra di cui parla avrà un po' da raccontare, eh. Ve lo sento. Stai bene, Olaf? È stata una fortuna che siamo arrivati giusto in tempo. Aspetta di vedere come si incazza. Fortuna? Fortuna? Non capite cosa avete fatto? Sì, ti abbiamo salvato la pellaccia. Potresti mostrare un po' di gratitudine. Vedrai come la mostra la gratitudine, vedrai. Gratitudine! Mi avete condannato a una fine senza gloria! Ehm, come scusa? Sapete da quanto tempo cercavo un avversario tanto potente da riuscire a uccidermi? E finalmente l'avevo trovato! Un degno nemico in grado di darmi la morte da eroe che merito! E voi me l'avete negata! Ehm, è stata lei. Lo sapevo. Ve l'avevo detto. Non immischiamoci, ho detto. Ma no, nessuno dà mai retta alla recluta. Ottimo, voleva morire e noi abbiamo rovinato tutto. Ora ci ucciderà, vero? Praticamente sì. Rivolgendosi a Olaf. Dai, non essere così negativo. Può pensarci uno di noi a spedirti all'altro mondo. Certo. Allora, non ho mai detto non immischiamoci, quindi direi che a esclusione mettiamo la risposta 2. E ora sarò io a dare a tutti voi la morte ingloriosa che meritate. Eh, l'avevo detto. Sapete, inizio a sospettare che costui non sia così affabile come pensavo. Gwen Explorer, signore e signori. Già, è sorprendente. Di solito vado d'accordo con chi odia i mostri. E su quello avrei un po' i miei dubbi. Lucian, non avevi detto che era un tipo a posto? Frena un secondo, Olaf. Ricordi che abbiamo viaggiato per mare insieme? Ricordi che abbiamo affrontato la mietitura? Ricordi Sara Fortune? Aspetta un momento. In che fase si sono incontrati Lucian e Olaf? Devo andare a documentarmi, non mi ricordo. Olaf non ricorda! Olaf si getta affurente verso le sentinelle, menando le sue asce alla cieca. Ok, ritiro tutto quel che ho detto su di lui. Abbiamo due scelte. Combattere o farci ridurre in spezzatino? Combattete per gli dèi, scegliete di combattere! E se invece scappassimo, per me in passato ha funzionato. Il suo discorso sul morire con onore non era così sbagliato. Lasciamolo fare. Dai, dai, siamo coraggiosi, risposta 1. Io dico di combattere. Ma in realtà l'ho detto io. Idem. Qui finisce il capitolo 1, ora passiamo al capitolo 2. Nelle caverne. Dopo aver negato Olaf la sua morte gloriosa, le sentinelle sono costrette a reprimere i suoi assalti furibondi. State fermi e subite la mia ira! Ah, quindi lui si aspetta che noi stiamo fermi mentre lui ci ammazza. Molto intelligente il ragazzo. Olaf sferra colpi su colpi alle sentinelle, che però riescono sempre a evitare o deviare le sue asce. Sai, penso che il vecchio Olaf sia diventato più irascibile dall'ultima volta. E anche più smemorato. Sarà la vecchiaia? Deve aver preso parecchi colpi in testa. Anche. Forse deve solo trovare un po' di gioia, qualche parola per placare i suoi bollenti spiriti? Prego Gwen, prima le donne. Se pensi di poterlo convincere usando solo le parole, allora sei anche più stupida della nostra recluta. Vane, sto cercando seriamente di prenderti in simpatia, ma letteralmente così non aiuti. Gwen ha ragione, a volte il dialogo può fermare la violenza. Prima di unirmi alle sentinelle lavoravo in un corpo diplomatico. Forse posso farlo ragionare. Davvero? Eravamo dei diplomatici? Vi sorprenderebbe sapere quanto è facile conquistare la fiducia di qualcuno con la parlantina. Un tempo ero un genio della truffa. Lasciatemi provare. Ero un diplomatico o un truffatore? Probabilmente entrambi. In realtà le parole possono fare miracoli. Durante l'addestramento ho imparato l'arte della distensione. Osservate. Mmm, ci tengo alla mia vita, quindi direi risposta uno. Recluta, che stai facendo? Olaf non si fa incantare dai tuoi paroloni. Staccherò quella testa blatterante dal tuo corpo gracilino. Come gracilino? Oh, non sono mica così magrolino. Olaf dirige lascia verso la tua testa. La lama manca di un soffio il cranio, ma si porta via una ciocca dei tuoi capelli. Mamma mia, ma ogni volta noi rischiamo di morire. Siamo veramente il protagonista sfigato di ogni serie. Ehm, signor Barbaro, che ne dice se invece di uccidermi provassi a sedersi e a dirmi cosa la turba davvero? Recluta psicologa, andiamo. È un peccato che tu voglia uccidermi. Speravo che mi avresti mostrato come confezionare un elmo alla moda come il tuo. Questo è decisamente fuori luogo. E così vuoi decapitarmi? Beh, suppongo di meritarmelo. Prima però, mi sveleresti come fai a rendere la tua barba tanto liscia e fluente? Semplice, usa la schiuma da barba Gillette. Dai, dai, siamo seri. Risposta uno. Che? Oh, beh, se proprio insisti, è iniziato tutto quando avevo... L'abbiamo convinto. Serio? Ehi, so cosa cerchi di fare, ma non funzionerà. Ritiro quello che ho detto. Olaf solleva la sua ascia sopra la testa e si prepara a spaccarti in due. Addio, è stato bello, ragazzi. Aspetta, io so perché sei così furioso. Hai solo paura di essere dimenticato. È una cosa che spaventa tutti, no? Psicologo recluta parte 2. D'accordo, fai del tuo peggio. Prova a uccidermi se hai il coraggio. Questa è proprio brutta. Ti prego non uccidermi, sono troppo giovane per morire. Eh, questo è un cliché, però è divertente a modo suo. È sempre stata divertente da usare. E poi le altre due mi sembrano un po' stupide, quindi diciamo la terza, dai. Ah, basta piagnucolare! Quanta codardia! Non vale neanche la fatica di farti fuori. Sarebbe disonorevole uccidere un essere tanto debole e patetico e... Guarda che io ho dei sentimenti, Olaf. Non un'altra parola. Ho l'esclusiva sui maltrattamenti alla nostra recluta. E chi ti avrebbe dato il permesso scusa? Ah, tanto tutti gli insulti del mondo non basterebbero. Però mi hai fatto passare l'ira. Non è una cosa da tutti. GG easy. Ottimo. Ora che gli animi si sono calmati, abbiamo una proposta da farti. La Yordle contro cui combattevi è sicuramente legata alla mietitura in corso qui. Ti va se ti aiutiamo a cercarla? Tu troverai la tua degna avversaria. Noi potremo fermare la mietitura. E saremo tutti contenti. Che bella ricattatrice, brava Senna. Mmm, mi piace soprattutto la parte in cui trovo una degna avversaria. Ma come pensate di fermare quella signora delle ombre? È forte. Appare e scompare nella nebbia. E può contare sul suo infido servitore nero. Giuro che detta così sembra veramente una frase razzista. Eccola là, in cima a quella montagna agghiacciata. Cupa e triste come sempre. Mamma mia, Gwen, è che c'hai l'occhio di Falco. Va più veloce, ombra. Troviamo quello stupido coso magico e andiamocene da questo squallore. Oh, quindi Viego ha mandato Vex a cercare l'artefatto legato ai soldi qui nel Freyord. Perché? Aveva paura di congelarsi i pettorali? La prossima volta mettiti una maglietta, caro mio. È interessata a qualcosa in quel ghiacciaio. Sembra una specie di manufatto luminoso. Un altro oggetto magico. Ma perché? Beh, Olaf, ecco la tua degna avversaria. Ora, come superiamo questo muro di ghiaccio? Manda Olaf a dargli due testate e il gioco è fatto. Oh, a questo ci pensa Olaf. Appunto, proprio quello che volevo sentire. Muoviamoci. Ci vorranno giusto un paio d'ore passando per le caverne di ghiaccio. Cioè, fa il giro lungo? Io pensavo che tirasse delle craniate sonore al muro di ghiaccio. Un paio d'ore? Caverne di ghiaccio? Certo! Ah, stranieri, pensate di poter camminare su per un ghiacciaio? Beh, con gli scarponi e i moschettoni ce la si può fare. A meno che non abbiate anche voi uno schiavo d'ombra capace di trasportarvi, ci toccano le caverne. Probabilmente mi pentirò di ciò che sto per dire, ma... Ok, seguiamo questo barbare in una caverna fredda e oscura. Sì, seguilo sconosciuto in una zona buia e stretta. Fine del capitolo 2, ora passiamo al capitolo 3. E... La furia del berserker. Guidate da Olaf, le sentinelle giungono in cima al ghiacciaio, dove Vex è in procinto di estrarre dal ghiacciaio lo strano manufatto magico. E ci ha messo due ore per farlo? Scava più in fretta ombra, portiamo questo stupido coso luccicante a Viego il prima possibile. Curioso il fatto che lo chiami stupido, visto che per Viego praticamente è importantissimo. Mmm, sarà mica gelosa? Eccola, appena in tempo direi. Ma che coincidenza! Ehh, ancora quelle sentinelle. Non vi hanno mai detto che siete cocciuti come dei muli? Visto il luogo in cui ci troviamo direi che siamo cocciuti come degli elnook. Sì, siamo piuttosto insistenti con quelli che vogliono distruggere il mondo. Raga, però siamo intelligenti quando ci impegniamo. Non so, mi sembra troppo. Io direi cocciuti come degli struzzi. No, no, fidati, come degli elnook. A me non l'ha mai detto nessuno. Anzi, prima che arrivassero loro ero anche sotto la media per una sentinella. Ragazzi, credo che dovremmo rinunciare e rassegnarci al fatto che noi, reclute, siamo degli imbecilli. Non è vero, scherzavo. Noi non vogliamo essere imbecilli, quindi risposta numero uno. Ma non mi dire, beh, io non vorrei nemmeno essere qui. Però Viego ha detto che gli serve questo coso luccicante per rendere il mondo orribile. Aspetta, quindi lui in pratica sta cercando i frammenti di Isolde per voler distruggere tutta Rune Terra? È esattamente quello che ha detto Senna nella Cinematic di inizio anno. Ve lo ricordate? Lei dice, tu distruggerai questo mondo, dopo che lui le aveva ordinato di restituirle la sua regina. Quindi questo conferma quello che effettivamente ha detto Senna. Quindi a quanto pare è confermato che Viego non vuole solo riunirsi con Isolde, vuole anche conquistare tutto. E vedere il mondo diventare orribile è l'unica cosa che voglio. Ma è probabilmente questa la ragione per cui Vex si è unita alla causa di Viego. E guardate qua, guardate come sorride, che carina. Sentinelle, io dico di riempirla di buchi. La droga fa male ed è disapprovata in molti stati. Ehh, finisco io di scavare ombra. Tu sistema quegli spacconi. Le sentinelle scatenano una cascata di luce contro Vex, ma la sua ombra si mette in mezzo proteggendola. Mmm, questo potrebbe essere un piccolo spoiler al fatto che in gioco magari Vex avrà una skill che le conferirà uno scudo. L'ombra rigetta un denso miasma di nebbia oscura, che fa contorcere le budella alle sentinelle. Berserker, abbiamo bisogno di te, è la tua occasione. Vai, conquista la gloriosa battaglia che tanto desideri. Che bello, Senna vuole lanciare Olaf proprio in mezzo al combattimento. Così. Mi piacerebbe, ma... Non ci riesco. Mi è passata. C'è, va a momenti questa cosa? Cosa?! Vedi, sono stupiti anche loro. Tutte quelle belle parole e discorsi sull'amicizia mi hanno calmato. Non posso diventare un berserker in questo stato. Credo di avere la soluzione, Olaf. Se sei forte, sali. Ottimo lavoro, Recluta. Dovevi proprio farlo ragionare? Polevate che si calmasse? Io l'ho fatto calmare. Non rompere i coglioni. Come facciamo a farti arrabbiare di nuovo? Non lo so. Di solito mi scateno anche senza motivo. Non mi è mai successo di essere tranquillo prima d'ora. Sono proprio curioso di sapere come passa le giornate quest'uomo. Ehm, se le parole lo hanno fatto calmare, forse possiamo usarle anche per renderlo di nuovo furioso. Eh, te l'ho detto. Sussurriamogli all'orecchio, se sei forte, sali e vedrai come si incazza. Sì, sì, potrebbe funzionare. Splendido, lasciatemi provare. Eccola la Gwen sempre in prima fila. Olaf, tu sei un ergumeno triste, sciocco e peloso e non sei abbigliato come si deve contro il freddo. Io la adoro Gwen, io la adoro. È troppo carina, però ci ha provato. Mi sa che dovrai fare meglio di così piccoli. Mmm, forse il problema è che sei troppo stupido per capire la nostra lingua. Eh, Wayne, forse ci potrebbe anche riuscire. Come? Perché dici così? Oddio, non mi dire che gli abbiamo ferito i sentimenti. Perché fatichi a comprendere il significato delle parole. In pratica, sei un cavernicolo analfabeta. Sta cercando di aiutarti puntando sui tuoi punti deboli. Anche se io inizierei dall'odore. Questa è proprio cattiva. Perché ti odiamo tutti e non sopportiamo il tuo brutto muso. Questa è un po' banale, secondo me. Io direi di mettere la seconda, perché quella è proprio brutta. Oh, ti fa notare che si fa il bagno ogni due settimane. Complimenti, sei veramente fresco. Mi pare sensato. In fondo ci vuole parecchio tempo per raccogliere così tanta urina di Yeti. Wayne, sei proprio tossica. Esattamente come quelli che ti giocano. Perché è con quella che ti lavi, vero? Adesso ne ho abbastanza! Ragazzi, queste scene sono veramente fantastiche. Fai piano, spaventerai le tue pulci. Ok, neanche l'alito si salva. Mangi altro, oltre agli escrementi di Yak. Ehi, attento, stai sputacchiando. E io non voglio prendermi qualche bizzarra malattia da cavernicolo. No, io voto la 1, ragazzi. È troppo simpatica. Ok, l'hai voluto tu. Preparati a un viaggio di sola andata per il regno degli spiriti. Ok, l'abbiamo fatto incazzare. Però ora dobbiamo scagliarlo contro Vex e non contro di noi. Olaf diventa tutto rosso e ti carica con le sue asce sguainate. Cosa vuoi da me? Sono stati loro! È fatta. È andato in Berserk. Presto, aiutatemi a puntarlo verso il bersaglio. Tutte le sentinelle collaborano per bloccare Olaf e voltarlo contro Vex. In un impeto di furia cieca, il Berserker si fa strada a colpi di ascia attraverso l'ombra di Vex. E continua a dirigersi verso la Yordle a tutta velocità. Oh, guarda, Olaf ha appena usato la R. Ah, muori! Tuttavia, Vex fa in tempo a staccare dal ghiaccio il manufatto magico che somiglia a un pettine d'avorio. Che ci fa un pettine d'avorio lì dentro? Oh, quindi il coso luccicante era uno stupido pettine? Vabbè, forza, ombra. Andiamo via da questa insulsa montagna di ghiaccio. Usando la sua ombra come una slitta, Vex scivola giù per il ghiacciaio lasciando Olaf a colpire l'aria. Torna indietro e combatti! Sei in debito con Olaf di una morte da eroe! Possiamo ancora raggiungerla. Ci serve solo un modo per scendere velocemente da questo pendio. Capitolo 3 finito, andiamo al capitolo finale. Giù per la montagna! Olaf e le sentinelle inseguono Vex fino ai piedi del ghiacciaio. Smettila di fuggire, signora delle ombre! Dai a Olaf il cruento combattimento che brama! E insomma, accontentalo, povero Cristo. Nah, qui ho finito. Stringendo l'oggetto magico tra le mani, Vex prosegue la sua fuga dirigendosi verso un valico ghiacciato fra due picchi. Che ci sarà lì dentro mica un portale? Oh no, la fattina senza gioia sta scappando. Guardate Gwen, poverina, che faccina sconsolata che c'ha. Come puoi dire di no a un faccino del genere? E ha con sé l'oggetto luccicante che era nel ghiacciaio. Che vuole farci? Non lo so, a pettinarsi i capelli magari. Una cosa è certa, non ha buone intenzioni. Fermiamo quello a Yordle! Vex è diversi metri davanti a te e la sua ombra schizza sulla neve a velocità sorprendente. Non riusciremo mai a raggiungerla, dobbiamo tagliarle la strada. Come abbiamo fatto con Demacia con Viego, insomma. Questo valico è la sua unica via di scampo. Giusto! E se la neve delle montagne lo dovesse coprire, resterebbe bloccata. Oh, Olaf che fa un ragionamento? Vuoi che causiamo una valanga? Non sarà pericoloso? Tranquilla, c'è Olaf che ci salva il culo. Vero Olaf? Pericoloso? Stupidi forestieri. Certo che sarà pericoloso, però così la fermeremo, no? Ma gli estremi, gli estremi rimedi, insomma. Ok, non pensavo che l'avrei mai detto, ma... Pensiamo tutti a come far venire giù una valanga. E se facessimo molto rumore? So che quello provoca le valanghe. Sì, ma dipende da che zona ti trovi e quanto fragile è la valanga. Spariamo alle montagne con le nostre armi, dovremmo far cadere abbastanza neve. Oh, questa è la risposta più logica. Risposta 2. Vorresti usare le nostre sacre, antiche reliquie per sparare a una montagna? Hai un piano alternativo, Lucian? Perché io in questo momento non ne vedo uno. Tutto per far cadere un po' di neve? Non è una soluzione molto sofisticata, ma mi piace. Ah, pensavo che fosse contrariato all'idea. Menomale, sta acquisendo punti, Lucian. D'accordo, mostriamo a questo sasso troppo cresciuto chi comanda. Addirittura ci mettiamo a flammare un pezzo di roccia. Wow, è più inutile di quando flammi in Aram. Le sentinelle aprono il fuoco contro il vicino crinale e tutta la valle viene immersa nella luce. Dopo un attimo senti l'inconfondibile rumore della neve che si stacca dalla roccia. Mettetevi al riparo! Cumuli di neve iniziano a scivolare giù per la montagna fino al valico. In pochi secondi il passaggio si trasforma in un muro di ghiaccio e neve, bloccando la ritirata di Vex. Ma seriamente? Dacci quell'oggetto, non vogliamo altro. Quello è che tu smetta di aiutare Viego con il suo assurdo piano di distruggere il mondo. Sì, anche quello. Siete gli individui peggiori che conosca, lo dico a tutti, ma stavolta lo penso davvero. Vex, tesoro, sei veramente un sacco edgy. Mi avete fatta passare da indifferente a lievemente irritata. E credetemi, non esiste niente di peggio di una Yord l'adolescente irritata. Ah, quindi Vex è un adolescente. Quanti anni avrà, secondo voi? Vex raddrizza impercettibilmente la schiena ed evoca un'enorme ombra ai piedi delle sentinelle. E la madonna, lievemente irritata? La massa oscura rallenta ogni movimento e ogni parola. Educo che questa sia una skill che magari farà rallentare le unità colpite. Che cos'è? Non riesco quasi a muovermi. Già, si chiama disperazione. Godetevela. Cos'è la W di Morgana? Oppure no? Insomma, chissene. Guardate come contenta Vex quando dice queste cose. Sentinelle, dobbiamo fermarla! Le sentinelle corrono verso Vex, ma le loro gambe si muovono a malapena. Quando raggiungono il punto in cui si trovava Vex, la Yord l'adolescente è sparita da un pezzo. Dove diavolo è? Per un istante riesce a scorgere in lontananza Vex e la sua ombra. Prima che spariscano in un vortice di nebbia oscura, la massa nera sotto i vostri piedi si dissolve. No, la mia morte eroica, svanita! Già, è anche quell'oggetto incantato. Sono condannato a vivere e a morire nel modo più orribile di tutti. Di vecchiaia! Che, se ricordate, infatti, è quello che le aveva predetto la sciamana. Hmm, forse c'è un modo per evitarlo. Lucian, spero che tu non stia pensando ciò che penso che stai pensando. E invece penso che sta pensando ciò che tu pensi che stia pensando. E anche io penso che lui stia pensando ciò che io e anche tu stai pensando. Senza che lo pensiamo tutti insieme, ovviamente. Però è un mio pensiero. Non so se sia il pensiero che tutti pensiamo. Però può essere un pensiero collettivo. Ma non pensiamo troppo, ragazzi, perché questo è solo un mio pensiero. Perché no? Hai visto anche tu come combatte. Non vorresti averlo in prima linea contro la mietitura? È chiaramente pazzo. Senna è lungimirante, devo dire. Recluta, dammi una mano. Che palle, ma vuoi sempre che ti dia una mano? Non puoi fare tutto da solo. È evidente che gli mancano delle rotelle. E anche a te se lo vuoi nel nostro gruppo. Senza offesa. Certo, se riusciamo a imbrigliare la sua furia sarà una risorsa preziosa. Questa è la frase più logica, quindi direi che votiamo questa. A quanto pare non insegnano il buonsenso durante l'addestramento. No, ma insegnano a sopravvivere. E avere più compagni vuol dire avere più possibilità di uscirne vivi. Anche se questo comporta a reclutare Olaf. Non sono convinta, Lucian. Ma se pensi che possiamo fidarci, allora gli darò una chance. Avanti, parla chiaramente. Olaf odia la gente che parla alle sue spalle. Senti un po', Olaf. E se ti dicessi che stiamo per affrontare l'avversario più degno che esista su Runeterra? Ti direi di rivelarmi subito dove si trova. Sarò io a giudicare quanto è degno davvero. Beh, su quello non ci piove. Fidati, se c'è qualcuno che può darti una morte da eroe, è lui. No, se c'è qualcuno che può farti morire in maniera brutta e disonorevole, è proprio Viego. Basta guardare Shyvana, Karma e tutti gli altri personaggi che in questo momento sono sotto il suo controllo. Li sta trattando come la merda. Una volta tornate al quartier generale, le sentinelle accolgono Olaf nell'ordine. E saremo pronti a ergerci nella luce o a cadere nell'oscurità. E saremo pronti a ergerci nella luce e sfasciare l'oscurità colpidascia. Quei tre puntini dicono tutto, Senna. Era un tantino pessimista. Ci voleva un pizzico di positività. Come no, Olaf? Con l'autorità conferitami dall'ordine io ti nomino Sentinella. Che fatica, eh, Senna, a nominare Sentinella a Olaf. Combatti con valore e... Sì, combatterò con valore e gli scaldi canteranno per secoli della mia epica battaglia. Qualcuno può calmare quel ragazzo e ricorda il tuo giuramento. Sì, lo ricorderò così bene che... Taci, per favore. Olaf riesce a far perdere la pazienza a Senna. La cosa è molto grave. Gwen penserà alla tua divisa. Con immenso piacere. Da questa parte è Messer Ugola d'Acciaio. Prima Messer della Pelliccia, adesso Messer Ugola d'Acciaio. Se li inventa tutti lei, eh. Vediamo di trovare un abito più consono a una Sentinella, anche se ammetto che mi mancheranno le tue sontuose e odorose pellicce. Beh, puoi sempre fartele regalare, Gwen, ci hai mai pensato? Che hai da ridere? Vuoi biasimarlo, Senna? È stato divertente. Niente, mi stavo godendo lo spettacolo. Sarebbe questo il tuo piano? Radunare gli individui più pazzi del mondo e affidare loro le nostre armi più potenti? Ammetto che il suo stile sia poco ortodosso, ma la nostra non è una missione per gente normale. Ci servono altre Sentinelle. E non importa se alcuni di loro saranno fuori di testa? Come te, Vane, proprio così. Da che pulpito vi è la predica? Immaginavo che l'avreste detto. Udite, udite! La vostra provetta ricamatrice è lieta di presentarvi la nuova Sentinella più alla moda di tutto il continente. Messer Furia Rossa! Ha un nomignolo per Olaf a ogni frase che cambia. Incredibile. Non è morbido come la pelliccia di un noyak, ma può andare. Guardate che figo, ragazzi. Guardate che figone. Guarda quel ciuffo, quel datamarro, quel ciuffo con la rasata di lato e la barba ben curata, meglio raccolta con il ciuffo bianco qui sotto. Che dire? Sei stupendo, Olaf! Allora, quando potrò provare le mie nuove asce su qualche canaglia ombrosa? Sei fortunato, Svit... cioè Olaf. Si dà il caso che ci stessimo preparando a partire e ti assicuro che avrai a disposizione tutte le canaglie che vuoi. Chissà nel corso della nostra avventura come si svilupperà il rapporto tra Senna e Olaf. Vediamo se riuscirà a migliorare almeno un pochino. Spero vivamente che ci siano delle interazioni in cui la recluta sfotte di brutto Senna perché non va mai d'accordo con Olaf. Sarebbe fantastico. È proprio quello che volevo sentire. Lucian sappi che se farasse con uno di noi ti riterrò responsabile. Ok ragazzi, qui si conclude il regno del Freljord. Noi ci becchiamo al prossimo episodio con il regno di Noxus. Saluti! 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 Saluti!